L'identità umana come sistema complesso, da Edgar Morin alla filosofia in reparto. L'autrice Magda Fontanella, filosofa, bioeticista, lavora all'Istituto Eroldi Muzzi di Lecco. Come nasce questo libro? Questo libro nasce da un incontro molto fortunato con la casa editrice Documenta, che si è interessata a me, mi ha chiesto se ero intenzionata a pubblicare la mia tesi di dottorato, oramai scritta nel 2014, e da lì è iniziato il percorso di revisione e rilettura di pagine che avevo scritto oramai cinque anni fa, che poi ha portato alla pubblicazione del libro, mantenendo anche davvero il titolo che era della mia tesi di dottorato. Un libro che però nasce soprattutto dagli incontri, anche degli incontri in reparto. Ricordiamo che lei lavora in particolare in un reparto dove ci sono i pazienti in stato vegetativo permanente. Sì, proprio partendo da questa parola, incontri, che poi in realtà nasce il tutto. Perché il libro è ricco di domande che sono dentro di me, ma che poi ho sentito rispecchiate spesso nelle persone che ascolto, sia che si tratti di familiari, sia che si tratti di ospiti, sia che si tratti di personale sanitario che condivide con me il prendersi cura di una grande fragilità dell'essere umano, che è una salute gravemente compromessa, come quella della persona in stato vegetativo. Parla anche della sua esperienza in corsia qui all'Aerol di Muzzi. Sì, c'è proprio un paragrafo dedicato al fare filosofia in reparto, in cui esploro la possibilità della filosofia di stare accanto a chi soffre, aiutando nell'ascolto, aiutando nella formulazione di quelle domande difficili e aiutando a trovare delle vie di risposta per stare dentro questa situazione. Ci sono delle domande, ci sono anche delle risposte, quindi, ai grandi dubbi dell'uomo? Diciamo che la risposta è un po' di nuovo quella parola, incontro, l'incontro biografico con la sofferenza. Ognuno poi, dentro quel dolore da cui viene colpito, trova una risposta, la mette alla prova, ci ritorna sopra più volte, a volte se ne allontana, ma poi si appropria di una risposta che lo aiuta a stare dentro questo percorso e a volte sono appunto gli incontri, i legami, la forza che viene dagli affetti con la persona che sta male.